Ci pensa Baio, a venti dal termine, a richiudere in frigo lo spumante di un Baby Brasil che, all'ultima curva, si ritrova ad un punto soltanto dal ritorno in prima categoria. A Borgo Trebbia, una turris tranquilla nel mare calmo della metà classifica non sembra rappresentare pericolo minaccioso per i ragazzi di Castellazzi. Haki innesca il turbo a destra in avvio, ma il suo destro si perde sul fondo, mentre la risposta nero-azzurra è tutta nel destro di Contardi che Tirelli controlla senza problemi. Al venticinquesimo, invece, cala il gelo nel settore riservato ai tifosi giunti da San Nicolò. Migliavacca attira su di sé le attenzioni della difesa, dopodiché serve a Follini il pallone che vale il vantaggio a sorpresa. Un clamoroso buco difensivo che la battistrada prova a cancellare riversandosi nella metà campo dei padroni di casa. Si innesca Baldanti, ma il suo mancino è appena altro, mentre non va il colpo di testa di Bellingeri sulla pennellata di Nicotti. Sale sempre più la pressione San Nicolina con Aquino che mette nelle condizioni di sparo Bernini, ma Toloni è ancora reattivo. L'estremo difensore ribatte anche il colpo di testa di Gozzi sul corner susseguente, ma si arrende al trentottesimo. William Nicotti disegna da sinistra la consueta traiettoria a rientrare che nessuno riesce ad intercettare e così il beffardo tiro franco dell'ex Fiore vale il pari. Il Baby ora vuole risolvere la questione, ma la manovra avvolgente rifinita da Aquino Perachi non fornisce i frutti sperati. Ultima occasione prima dell'intervallo sui piedi di Bernini che non sfrutta dovere l'assistenza di Baldanti. Ripresa e la caccia al gol scudetto prosegue. Lo schema da rimessa laterale diviene arma letale. Baldanti dà lezione in fatto di protezione della palla e prima centra un palo clamoroso, dopodiché con il tacco regala a Bernini il pallone della gioia irrefrenabile. Una gioia che dura soltanto dieci minuti prima del nuovo blackout difensivo che consente a Baio di freddare Tirelli con il destro. I venti minuti finali saranno un assalto alla porta di Toloni, il portiere nero-azzurro sbarra la strada a tutti quanti e all'ultimo istante è Gozzi a sparare alto da posizione invidiabile. Sarà il sentito derby con il rotto freno a sancire tra sette giorni se questo Baby Brasil meriti o meno la risalita immediata in prima categoria. Per gli uomini di Braguet, oltre al punto di prestigio, anche un plauso per la lealtà sportiva che di questi tempi è affare da non sottovalutare.